60 candidati per 10 aziende a confronto. Si è svolto presso il Centro per l'impiego di Viareggio il terzo appuntamento con il Job Day, l'iniziativa promossa dalla provincia di Lucca per riuscire a far incontrare l'offerta e la domanda di lavoro. Il Centro per l'impiego ha selezionato quindi una rosa di curriculum di candidati che ha presentato alle aziende interessate. I colloqui avevano uno scopo sia esplorativo che conoscitivo, che per opportunità di stage e tirocini, eventualmente anche di assunzione diretta. Uno strumento nuovo che ha già acquisito una sua identità e che anche nelle edizioni precedenti ha dimostrato la sua efficacia nel far incontrare le due facce del mondo del lavoro. Numerose le aziende interessate all'iniziativa, tanto che si è venuta a formare una sorta di lista di attesa anche per le prossime edizioni. Le due esperienze precedenti, quella di Lucca e di Viareggio, a detta delle aziende stesse, in base ai report successivi agli incontri, abbiamo avuto un riscontro altamente positivo, proprio come puntazione da parte delle aziende e anche riscontri soddisfagenti sull'essito concreto di quegli incontri. Le dieci aziende che oggi hanno aderito qui a Versilia sono molto motivate. Spero che anche qui dalla Versilia venga poi un risultato concreto come ci attendiamo.